Ha toccato anche la provincia di Arezzo la vasta operazione antidroga scattata alle prime luci dell'albe condotta dai carabinieri del nucleo provinciale di Perugia al termine di un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia. Sono 24 i soggetti indagati per associazione finalizzata al traffico, alla detenzione e allo spaccio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti. Le misure cautelari sono state eseguite oltre che nelle province di Arezzo e Perugia anche in quelle di Caserta, Latina, Lucca, Pisa e Varese. Dieci le persone arrestate ora in carcere, tre ai domiciliari, per altre undici invece è stato disposto l'obbligo di firma. Le indagini erano iniziate nei primi mesi dello scorso anno quando, grazie all'arresto a Toronto le Sinalunga di due cittadini nigeriani, trovati in possesso di oltre un chilo e mezzo di eroina, i militari erano riusciti a ricostruire una rete di connazionali residenti a Perugia e cittadini italiani, in grado di importare sul capoluogo Umbro notevoli quantità di stupefacenti dall'estero. Un gruppo unitario e piramidale che poteva contare anche su un chimico e corrieri ovulatori, che era solito utilizzare come base logistica un appartamento in affitto nel centro di Perugia, dove venivano stoccati e rivenduti centinaia di chili di droga, con la quale venivano alimentate le piazze di spaccio non solo dell'Umbria, ma anche quelle della Toscana, delle Marche e della Campania. Le indagini hanno poi permesso di appurare che il principale canale di rifornimento dello stupefacente era il nord Europa. Gli inquirenti ipotizzano anche collegamenti tra l'associazione criminale di matrice nigeriana ed esponenti della criminalità organizzata Campana. 250 kg la sostanza stupefacente transitata secondo la ricostruzione della DDA, almeno 80 kg quella sequestrata in tutta Italia in questi mesi di indagine.